Prossima gara contro il Benevento, gara che va vinta sul campo, non a parole, non sulla carta. Sì, hai assolutamente ragione, è una partita insidiosa, è banale dirlo ma è così, quindi dobbiamo lavorare, arrivare a domenica con le gambe pronte, con la testa pronta e vincere la partita che si vince nell'arco dei 95 minuti che abbiamo a disposizione. Quindi dare tutto a noi stessi e pensare solo e esclusivamente alla partita. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi e domenica tocca a noi e daremo il 120% per portarla a casa. A proposito di gara insidiosa, le insidie principali di questa formazione avversaria del Benevento, quali potrebbero essere? Io faccio più riferimento a noi stessi, cioè noi dobbiamo pensare a noi stessi, a migliorare le nostre doti, a cercare di limare i nostri difetti. Quindi io punterei l'attenzione su di noi, sulla nostra rosa perché è importante, dobbiamo provare di tutto per migliorarci ognuno di noi. Poi il Benevento arriva e lo valuteremo, lo studieremo in questi giorni. Un Benevento che però appare decisamente più consapevole dei propri mezzi rispetto alla gara d'andata. Sì, ha fatto più punti, viene da dei risultati positivi e quindi bisogna stare attenti e concentrati, come abbiamo fatto in tante partite. Dobbiamo interpretarla nella maniera più concentrata e con più attenzione possibile. Mi ripeto, ma è così. Quindi noi calciatori dobbiamo fare i professionisti, pensare alla volo e pensare di poterla portare a casa e portare a casa i tre punti. All'andata il Ciro Vigorito si è fatto sentire, però questa volta il fattore campo ce l'abbiamo noi, con la maratona e il resto. Sì, io credo che ci darà una grandissima mano, come col Bologna, ci darà mano anche con il Benevento. E quindi ora giochiamo in casa e vogliamo portare gioia ai nostri tifosi e portare i tre punti. Quindi credo che saremo in tutt'uno. Grazie a tutti.